Ciao! Ciao bambini! Ciao! E devo parlare piano perché è tardi, sono le due di notte e io sono Capitan Oceano e il Capitan Oceano parla piano, non solo perché sono le due di notte, ma perché l'oceano oggi è calmo. Se fosse stato più mosso, anche Capitan Oceano sarebbe stato più carico e avrebbe parlato con più violenza, ma soprattutto voi siete su un qualcosa che scorre. Oh, ma dove andate? Ma salve! Siamo arrivati? Siamo arrivati? E cosa succede se faccio così? Che scorriamo ancora! Oh, attenzione! Un sacco di chiasso però, devo dire, da migliorare ancora. Ve lo farò vedere lunedì dove state, ma adesso dobbiamo andare a vedere le votazioni del Supatuba, perché oggi facciamo un altro fantastico Supa e Tuba! Yeah! Supatuba! 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 Ok, sto perdendo il controllo. Ok bambini, venite con Capitan Oceano qui alla postazione di lavoro, perché il vincitore della votazione del Supatuba è Gabby16bit, ma soprattutto, con grande sorpresa, ma in realtà no, 84% supereroi, bambini, e avete votato in 17.000! 17.000 bambini! Sono tanti! Qui il chroma key verrà malissimo, perché la mia mano è tipo gialla. Ma se andiamo a scorrere in alto, tra i superpoteri, il più votato è stato l'avicoltore di gabbiani, combatte affiancato da uno stormo di gabbiani. Queste sono le immagini di riferimento che ho, quindi ho dei gabbiani e dei gabbi. E uno non me ne bastava, quindi ne ho messi ben tre. Pensate voi quanto sono bravo! Quindi adesso iniziamo lo schizzo. Voi fate i bravi nel frattempo, non scappate, facciamo subito! Questo è, come dire, la posa che ho scelto, molto semplice, perché voglio un po' questa naturalezza nel controllo dei gabbiani, che vogliono che siano appoggiati anche sul braccio, magari, o sulla testa. Adesso vediamo un po' che volino in giro, ma adesso soprattutto dobbiamo vestire il nostro Gabby, con cosa non ho ancora la più palle d'idea. Penso che mi guarderò intorno nel mio ufficio e sceglierò cose, ma cosa ho? E questo, innanzitutto, voi direte, ma questo non è il tuo solito ufficio, Peo, ma dove d'accidenti sei? Beh, questo sarà il mio nuovo ufficio, perché sono a casa mia. Una casa mia nuova. Faremo prima o poi un tour in un altro video. Adesso, però, torniamo a Gabbo. E questo è il mio nuovo ufficio. Ok bambini come potete ben vedere Non solo abbiamo scelto un avviamento che fa molto Doctor Strange Con il mantello che però finisce tutto frangettato Richiama le piume dei gabbiani Gabbiani che volano in giro Uno appoggiato qua, uno appoggiato qua Uno qua e una sorta di veste con queste teste di gabbiano Che magari ho pensato lo aiutano a comandare gli stormi di gabbiani Anche voi direte Peo ma ce n'era bisogno? No, no assolutamente Perché fare delle teste lì? Non ce n'era bisogno ma perché no? La domanda è perché no? E quindi adesso io direi di inchiostrare molto velocemente Il nostro Supatuba Il nostro Gabby 16 bit Quindi torniamo a lui Ti ha un po' di musichetta di sottofondo Del mio piccolo Gabby Tu sarai pronto a breve Almeno soltanto l'inchiostrazione Fai il bravo Ti accarezzo il faccino Ti accarezzo la testolina del gabbiano E qualcosa da te No, è lì non ci vanno le manine Attenzione Iniziamo va che è meglio Grazie a tutti e l'inchiostrazione finita e i più bravi magari si saranno accorti che ho utilizzato ben tre colori per inchiostrare il nero per quelli che saranno capelli che lui li ha scuri o gli occhi, il marrone per il resto e il blu per i gabbiani perché avendo una tonalità bianca, molto chiara comunque sia la line art blu ci stava secondo me non siete d'accordo bambini non siete molto ma molto d'accordo adesso per il colore noterete qualcosa di strano cioè io ho un'idea io ho un'idea vorrei fare una texture di gabbiani da mettere sopra il suo mantello che farò penso sul blu scuro e per fare la texture utilizzerò proprio un altro file su cui farò tutte queste copie di gabbiani texturizzati e poi li copierò sopra vabbè questa è l'idea speriamo che riesca anche nel colore e se mi riesce il like è dovuto cioè mostratelo già subito un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su perché non mostrare un po' di amore a vostro caro zio Peo Capitan Oceano che secondo me è un'ottima idea per iniziare bene i video l'amore prima di tutto ma adesso io direi che è ora che andiamo a colorare che andiamo a colorare che andiamo a colorare grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.